Laura bentornata, ciao a tutti, la conosciamo già, Laura è la concorrente di questa sera che ha partecipato anche all'edizione scorsa, com'è stato ritornare su questo palco? Bellissimo, è stata una grandissima emozione. Di nuovo? Questo palco è sempre emozionante? Sempre, assolutamente. Come ti sei trovato a tuo agio con i nuovi concorrenti? Ti mancava un po' qualcuno dell'anno scorso? Com'è stata la sensazione? È stata una splendida sensazione, assolutamente, e anche con i nuovi concorrenti mi sono trovata molto bene. Noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi anche questa volta, e a presto. Grazie a voi, ancora un saluto. Ciao, sai cantare, recitare, ballare, suonare, sì però non così vicino, mi fa fastidio. Oppure pensi di avere un talento bizzarro, accattivante o particolare, E a questo punto partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Puppe Art Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, richiedi informazioni o iscriviti commentando questo video o inviando un sms o whatsapp al numero 320 22 45 117. Ah, si vincono anche dei premi, eh, io vi aspetto sul palco, sono qua a Libari Caffè. Bulli e Puppe Art Contest, dal 19 ottobre, tutti i giovedì, a Libari Caffè di Voghera. Posso? Abbiamo finito? Ok, no, almeno, no, tira sulla telecamera che... Non ho solo le scarpe, non ho solo le scarpe.